Questo braccio Cazzo Quella E allora prima ti posso riamminare e poi E poi oppure Come volete, volendo potreste anche stare lì e fare un po' di scouting Eh, volevo fare questo Sì, sì, sì Facciamo scouting da lì al nord Da lì al nord Vabbè, li abbiamo messi un po' silenziosissimi Pietro respawno pure l'hub, adesso ti andiamo a prendere su Ai ai Guarda, scendiamo, scendiamo Mi fermo qui Sì, scendiamo qui dai Rimaniamo in contatto radio Leo, a dopo Sì, a dopo Ditemi, io spengo il motore Se sentite il motore, fatemi sapere Ok Vale, piazziamole sulle due vie Corpi Si è glitchata Copiato Mi riarmo Ok blecchio rimani qua che vado a prendere una mia Lei ha anche qui si glitcha Sulle strade in discegli Contatto davanti a me Abbassato Abbiamo contatti davanti a Flake A terra Bella Ricarico E allora si probabilmente ce l'hanno l'hubli Purtroppo non ho visuali da qui Marker Leo Marker Charlie Amrap davanti Amrap davanti Cazzo Vengo a arrivare Avvio Leo novità Serve un po' di supporto Medico Gaz No chi è il medico non mi ricordo Arrivo arrivo No copermine l'hubliato adesso per piacere del veicolo No copermine l'hubliato adesso per piacere del veicolo Oh vi scopriato Grazie dell'aiuto Sto a seguire parare Ingegnere Non ho riparato in niente Tre persone Grandi Andate via Ok andate via adesso Che ho perso una mina Sì Bene andiamo Ce ne andiamo Dec rimani in copertura Eh vado a piacere una mina Hanno qualcosa a est comunque Ok Leo probabilmente hanno qualcosa a est Copri però devo tornare perché ho tipo 20 HP 20% Intorno a faccio una reperire Vedo se ce l'hanno Intorno più possibile Guarda rimango stai Guarda riesci a comprimmi Sì affermativo Ti copro Gaz ti vede Occhi su di te Gaz Tranquilli Bella bella Arrivo a vado un po' più avanti E vado a piacere l'altro Sto uscendo dal campo Sì Hub Credo Aspetta Come lì? Siete liberi a parte? Guardate quei due contatti Ah no non c'erano Per ora è tutto ok Leo Sto coprendo Gaz che piazza mia Ok Ok Sto piazzando Scavo Scavo Troppo tranquillo Non mi fido Anche questo è un'altra Anche questo è un'altra Visuale assurda Visuale assurda Cioè sono parecchio imboscato E ho visuale su tutto il villaggio Quindi Ma quello che hai a destra Verso il nord est Lo vedi anche? Un americano davanti a me Sta fuciando verso di te A terra A terra Morto Qui Gaz Sì Leo ti confermo abbiamo abbattuto un altro americano C'è qualcosa a essere sulla nostra posizione Copio Provate a controllare Cazzo potevo permettere un rally Prima neanche pensato Provate a dare un occhio Comunque contate che hanno Amp Farm Lì Quindi se volete Arrivando da quella direzione Se volete piazzare qualche mine In quelle strade Ah Ho finito le mine Ho finito le mine Ne ho piazzate due su questo tratto Cazzo L'ho fatto L'ho fatto Cazzo L'ho ammazzato Sei ferito? Sì Mi sto curando Ho bisogno di te Vai Vai Marker Mi stava prendendo da dietro Oh Altro americano Altro americano Cazzo Cazzo Mi ha fatto Mi ha fatto Provo su di me Sulla roccia Se lo possiamo fa Sì Ce la dobbiamo fare Leo io e Gaz Ci muoviamo Ok Siamo messi molto male È pieno di fanteria Lo sento un carro Sì Leo Sentiamo un carro Eccolo C'è un carro su est È un Abram Abram Dì che è un Abram Abrams Copy arriva subito Abrams Dì che passa Ha preso la mina Ha preso la mina È traccato È traccato Arriviamo subito Vola Vola Appostati 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 Tira gli smog sopra Appostati Aspetta Solo quando non guarda Aspetta Ammazzatemi Non mi ha messo Nel scelio Ha smogato E ha smogato Il motore Vai vai Spara Human morto Human morto Human morto Bel lavoro Marcha Marcha C'è un proprio Sì Tutto vostro Leo Prendiamo di pomodgine Prendiamo di pomodgine Mi metto il C4 Leo C Se ce l'hai sì Te riesco a vicino C'è sì Dove tignate Sì Devo tignarmi da me Cazzo Sì Cazzo Sì L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Non mancano Tipo 10 secondi Meno di 10 secondi Questa è la scuola, la scuola, la scuola Io ho ancora 103 È andato Grano È ancora su, è ancora sul carro Però c'è l'obiettivo che mi sta... Vorrei aspettarlo Spostatemi da vicino al carro perché sto per esplodere Stai tirando via Ah, vai a terra tu, mannaggia Allora, aspetta, rimaniamo qui mentre... Potete spararli Potete spararli Ah, ma si brucia da insomma Ah, 13 copo, lasciamoli bruciare Cosa cattiva Ah, grazie La mina ha funzionato Ok DG Contatti passano dal lab Attraversando la strada dal livello Copio, copio, ho già avvertito la serie Non so se sta muovendo Dicevo te Mi muovo per neutralizzare le lab Non copio Ok Gazi di copro o rimango qui perché ti copro? Eh, devi venire anche tu Sì, sì, vengono qui Perché non ho il C4 quindi dobbiamo scavarla tutta la radio praticamente Facciamo un giro largo Facciamo un giro largo Ok Se la buttiamo giù sono dei punti Sì In modalità CQB eh Entriamo Sì, sì Ecco la radio La vedo La radio è a 277 gradi Appena dopo l'edificio c'è qualcosa Penso che sia da radio È arrivato il carro C'è un carro? Sì, il nostro Ah, ok La facciamo così Attraversiamo Adesso Vai Vai, io ti copro la lab Passiamo all'altro edificio a destra Proprio io voglio comportarti l'angolo a sinistra Ok, vai Vai, vai Scendiamo, scendiamo Vai, sono dietro di te Ok, lab Attraversiamo qui Ok, ti copro Vieni, vieni Mi metto auto eh C'è che va bene Nemico, nemico davanti a me Fermo, fermo Vai, vai Ho occhi sul carro ma non vedo nessuno Capi Qual cosa sta? Allora, risolto dentro Risolto? Certo Sì, sì Ok, vieni qua che ti curo In questo modo Stiamo venendo nella nostra zona visto che c'erano molti nemici Noi abbiamo avuto sfighe, non troviamo quasi nessuno Abbiamo trovato l'altra Sì, abbiamo trovato un paio di nemici sui Mi può fermare Eh, volevamo per aiutarti a stare quello ma Abbiamo già fatto la radio Abbiamo già fatto la radio Ah, ottimo 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 Allora la ripieghiamo sulla fac di difesa Copy, copy Ok Passi Ah, vedo Sono io, sono io, ragazzi La radio è andata Leo, la radio è distrutta Leo, la radio è distrutta Bell lavoro Ma questo non è il tank Questo è il nemico E' un Bradley, il Bradley Stai giù Stai giù Leo, il Bradley è il nemico Arriva sul capo E' sulla strada Stiamo tornando indietro Il tank E' esploso Sta a destra della 1 E' esploso E' esploso, cazzo E' morto No, è ancora solo Il Bradley Adesso è stato colpito due volte Adesso è spada Faccio che scendono ogni chilometro Falli fuori tu Cazzo dietro dietro Cazzo dietro Eh, non l'ho visto, cazzo Cazzo dietro Sono morto Copi Vediamo se riesco a farlo Leo, se riesce a viserlo Se è la mia panteria delle spalle Posso nord Copi Morto uno Mi ha fatto Mi ha fatto Se saliamo abbiamo le rocce in copertura Eh, infatti Siamo esposti Siamo esposti Mentre saliamo Vai, provo a coprirle Salite Uh, colpi Da sud Da sud Da sud Dietro di noi Sono a terra Eh, cazzo Mi sta prendendo Smockare, smockare Sto smockando Prima di morire Anche io Adesso Sono uscito A salvarmi Eh, Leo Ok Ok, smock fuori Se mi fate soppressione Vado a prendere Leo No, non riesco Non riesco Vedo 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 tramite il fuoco Mi sembra giù Ok, passa 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 Ok, fatemi soppressione di tiroleo Vai Vai Vai, fugo che ha denizzato Vai 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 Siamo messi un po' male di questo Bravi, bravi Ricarico 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 Vai, 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 vai Guarda che c'è Blake da una Se riescono a rilocarsi Se riescono a rilocarsi qui da noi Occhio colpidino Ricarico 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 In grande, bravi Vai, vai, vai Abbiamo il fumo, abbiamo il fumo la nostra Ora via di qua però ragazzi Stanno avvicinando Si Passo dietro al Faccio una vedetta Avete bisogno di cure? No, negativo Negativo Ok, leva su Usiamo queste nocce Est-Nord Ho un'altra mina volendo Le vuole pensare casi Eh Però lì sono buone quelle mine lì Sì sì, quelle lì sì Proviamo a muoversi direttamente verso Stalage Bunker Probabilmente Forse è lì però Abbiamo fatto lab È brutta questa strada Tutta piatta Se riuscite a passare qua sul mio lato Ci sono un bel po' di rocce che ti coprono Mettiamo in Vediamo dopo la strada si può passare Vediamo dopo la strada si può passare Hidro sei tanto staccato Sì, arrivo a mezzo Loggi davanti a me Si firma Due a terra Forse un terzo Sì un terzo forse Mi avvicino ragazzi Capritemi Hidro è givappato Lo sappiamo Metti in C4 Foglio la squadra Non devono fare un hub Foglio esplode Foglio esplode Via 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 Piazza Abbiamo intercettato un Lodge a Nord di Ampharm Smoke o ne avete? Lo smoke Ok, tirate la Lodge che non c'è Lo avesto È qui Grande Grande Buono GG Eh, GG GG Che bella l'azione che abbiamo fatto quando c'era quella radio lì che ne villaggiano È stata bellissima E comunque è l'azione che abbiamo fatto quando c'era quella radio lì che ne villaggia no? Che bella dentro Che bella lì che sia简core guessedera In questa nella 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 Se Ma どう Ha Ha Un Come Su Franc neat ora Pass uk